a 50.000 like faccio uscire il secondo episodio della rosa della fortuna scrivete nei commenti mi raccomando chi volete come come prossimo partecipante prova d'audio prova prova ci chiamo a presenti che tu vedi i canali della televisione benvenuti ragazzi in questo nuovo video di simone workout il primo episodio della ruota della fortuna sul pugilato raga cioè qui abbiamo scritto le peggio cose pugilato e chic soprattutto chic ma poi aspetta soprattutto ruota della fortuna c'è il 70 per cento delle persone non è iscritto al canale no vabbè regà senti dai chiudi il video no regà veramente è importantissima l'iscrizione al canale ovviamente per continuare a portare contenuti sempre migliori è grave se non costa nulla regà quindi c'è qui il nostro giudice e poi c'è la seconda giuria qui ma non per importanza comunque regà primo episodio con mattia ma io qui vi vorrei far leggere un pochettino quello che c'è scritto sparing da abbendato subisci 5 pugni subisci 5 calci subisci senza reagire subisci un calcio in faccia come è male il calcio in faccia sparing con un braccio ma come faccio se faccio se capita a me di far sparing e bendato può essere che incazzotto non voglio continuare leggere basta ragazzi quello che capita si fa i due concorrenti hanno a disposizione un jolly che lo possono giocare una sola volta il jolly di simone workout è il persiano cosa significa che se capita un colpo tipo subisci 5 calci e simone sa che non può battere mattia nei 5 calci può far entrare il persiano al posto di mattia viceversa mattia un jolly può far entrare me al posto di simone workout allora innanzitutto chi parte a girare la ruota posto dal consiglio come potrebbe essere certo concentrati prima di girare ma non ho detto concentra te ma come devo dire cose in latino no tu meriti il destino tuo se mi dà una piatta faccio che tu devi resistere a cinque colpi forti allora prendi il punto se tu molli prima basta descansi ti schivi eccetera non prendi il punto io se posso darti un consiglio collegia molto con le gambe indurisci il braccio indurisci il braccio indurisci guarda che faccia c'è vai dai madonna mia aspetta viena una per poi con calma due esagerate aspetta posso cambiare la spalla la spalla è una dai si chiama due eh quella si rompe cioè quell'altra è buona io so a destra dire col sinistro dai tre questa è la bella sterica quattro questo gliel'hai affondato sto facendo per rendere reale il canale ti puoi arrendere eh ti perdi il punto però vai mi la faccio più ma mia che pigna punto a simone ragazzi cinque colpi veramente notevoli tocca a me adesso io c'è una cosa che spero che non uscirà mai in questo video subisci un calcio in faccia io spero solo che venga quello invece così finisce il gioco eh finisce il gioco per davvero non esce quello è partito attenzione gira la ruota oddio oddio aiuto mamma mia oddio che poco 10 in croci corda 10 in croci corda e questo speravo quasi che mi capitava a me no non li vuoto ma io ha proprio la corda da quando c'era sei mesi e mezzo la possibilità dell'arco zero due tre quattro cinque sei la pressione sette otto nove dieci no questa pressione l'ho messo uno a uno no 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 che bello verifica quanto non si vede con la benda no non siete nulla regà allora bendiamo simone per questo sparring da bendato un esperimento unico regà c'è una paura assurda regà ok vediamo se ci vede come servire lo sta mattino aio non li pelate regà dai no 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 ottima p******o però davvero è importante no io non capisco niente no io non capisco niente a fra parizzoro a venti secondi sarà tutto finito eh partimo da abbracciati oh dai vai 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 aiuto eh no occhio fra vai 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 rispondi rispondi ai colpi Zimono! Vai! Gli stommi la sopoltisci! Vai, vai, partiamo! Lavora, lavora! Vieni la attizienza! È bravo! Vai! È bravo! Vai! Prec! 1,2! Sei pronto? Vai! Vai, sei rottuto! Che me vedi a me? Dammela l'arbitro! Vai, Zimono! Piedi in piedi! Prec! facciamo come il K1 3K in un round e il K1 allunga le braccia aspetta 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 dai 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 che il tempo è quasi finito quanto manca? 10 secondi 10 secondi dai 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 stop stop il tuo occhio pare sotto non passa a segnare il punto qui avresti dovuto lavorare meglio però è andato tutto è andato tutto per stare a meno a me l'altro posto l'hai era ciclone un evento difficile però importante perchè capisci l'importanza di vedere eh adesso tocca a te girare la ruota raga io sto sempre con la preghiera di non subire un calcio in faccia speriamo speriamo l'obiettivo è solo siamo carichi dai fatti mi ti ha puntato pure te nooo mi vincita si fai una ringa con lui e un tagliazzotti a caso vi posso dire una cosa? io c'ho più paura di prima no dico è della pericolosità incredibile perchè mentre Mattia se controlla i colpi e se lo colpisce si sto tranquillo tirano canzioni e mi affaccia alla fine a te te conviene proprio girare scappare ti hai messo pure il paradigme come da regolamento venderemo Mattia userò la mia strategia che ho qui in mente ma non posso dirvela perchè sennò lui ascolta è abbastanza óbvio centro del ring, appoggiato i guantoni, boxe! vai, vai 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 lavora mattino, lavora dai dai cercalo 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 cry occhio occhio c'è calo vai vai sotto vai è forte vai mattino senti i passi sul ring, Senti le vibrazioni Occhio alle vibrazioni a terra Vai No Senti alla ruota Allora io devo interrompermi Certo adesso lo risposto all'angolo Di qua pulito Vai via Vai 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 Break break 1 2 3 Ce so ce so vai Va bene va a me Vai Parla parla Simo è bellato Parla Occhio a ti Vai Ripassi Ripassi 3 3 Ripassi Ritiro Punta a mattina Ma come va questo a scoprirmi Ciccolone mi ha dato una grande ditta Non c'è stato a pensare Ho detto senti i passi Ho riuscito a perdere pure dal vendato Siamo 3 a 1 Questa è radosta però ragazzi Che non siete niente Sì 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 Vabbè ma sei proprio sfigato Sì Io manco so come funziona Vai Brazilian kick E mettilo per te Ma io mi metto comodo Ragazzi qua c'è da scegliere Brazilian kick Calcio del mulo Tornato kick E a voi Questo video non mi sta più divertendo Ti dai due bombe con le mani Ok Ok E poi ti dai Ma mai me ne ho sentito i bracci Sciafà Pronti Vai Bravo Bravo Che fa Mi colpi a scopo Eh È una scoperta Un punto di scorrettezza Cioè i cazzotti mi ha dato Non lo sapevo Non lo sapevo Se te conosco te sei complice Vai Vai mattino Te fa avvicinare Bello Bello Attenzione Copri il viso Copri il viso Copri il viso Capri il viso Copri il viso Copri il viso Copri il viso col domani Copri col domani Ma quanto è tempo? No Vabbè va allora Non c'è paura Non c'è paura Non c'è paura Il futuro è nostro Non usare braccia Purtroppo devo assegnare il punto a Mattia ma perché vuoi tirare i cazzotti se non gli facevo male Se sfondo adesso muovo ad appareggiare tutto Però è bello vede quando forre i colpi così È bello che sì Soprattutto quando gli pite no io Regà mi sta massacrando di botti non gliela faccio più Tocca a Mattia adesso girare la ruota io gli dico una cosa Lo ridico per la millesima volta perché veramente se esce questo mi metto a piangere proprio Scalto Questo è proprio il caso di ti fermate Tu subisci i cinque miei calci Però se Mattia resiste cosa molto probabile e facile Prende un altro punto stiamo finendo capire il cappottone globale Usa il jolly Quindi tra i calci a lui Lo vedo preoccupato il berziano però Da giudice devo dirti questo il berziano non ha più le ossa di una volta Quasi polvere Uno Due Il primo ho fatto finta di niente Tre C'hai in età dire eh C'hai in età Questa c'è una famiglia da mandare E il punto è di Simone Simone allora 4 a 2 qui stiamo a rimontare C'ho qualche speranza eh Perché molti di quei tasselli sono tutti a vantaggio di Mattia Io punterei sulla trottola per esempio No 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 Vediamo un po' cosa esce qui Dieci incroci con la corda rega Se lo sbaglio è finito Uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci Siamo arrivati a quattro a tre ore Però questo potrebbe essere cinque a tre O diventa la tua vittoria o diventa il suo pareggio E dipende tutto da come va questo giro Sto sperando una cosa rega sto sperando una cosa Colpo sotto al persiano Colpo sotto al persiano Io ne vedo a sto colpo sotto Lui A me Perché lì Stai ritendo proprio No perché potrebbe capitare Ero vicino Guarda per quanto Era vicinissimo Colpo sotto al gigalloni colpo sotto al persiano Allora io in questo momento non so se sperare a prendere il mio punto O se sperare Viste le tue prese in giro Che lo metti per te Dai persia Oh persia Resisti Fammi a sto punto persia Devo pareggiare Dai persia Dai persia No Porca vacca Porca vacca L'ha poco piegata Quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Mi sono massacrato Cioè contro un fighter professionista di 100 kg C'è 30 kg in più di me Vabbè ma tutte le cerchi 50.000 like ed esce il secondo episodio E mi raccomando Scrivete nei commenti chi volete come prossimo host Bella rega grazie a tutti Ma io non capisco una cosa no Simone workout si è messo là a far gradasso con Mattia Faraoni Ma io dico no Scegliere gioli Ma gioca per Fernandez Se entravo io al posto suo Deve dare le secche Ah tu ti voglio Dove piegarci E li piego io Qual è il problema Oh ma che stai a fare Ho giocato pure te Ma che gioca Ma che sei matto Io sto a girare perché fa chiaro Ma arriva l'aria Ah senti che freddo Ah è tipo un ventilatore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti